Stamattina a Cava dei Tirreni la sezione operativa della DIA di Salerno ha eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Salerno nei confronti di Antonio Di Marino, già destinatario del provvidimento di custodia cautelare eseguito il 13 settembre, emesso dal GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di 14 indagati, ritenuti responsabili dei reati di associazione di tipo mafioso, estorsione e usura commessi con l'aggravante del metodo mafioso, nonché associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento di sequestro è il risultato di quanto accertato dalla Polizia giudiziaria nel prosieguo delle indagini patrimoniali, che hanno consentito di documentare una significativa sproporzione tra le disponibilità economiche reali riferibili al destinatario del provvedimento e i redditi esigui denunciati con l'attività lavorativa. Nello specifico sono state sottoposte a sequestro le società Frescopane SRL e Italy Food SRL, entrambe con sede locale e operativa Cava dei Tirreni, aventi per oggetto sociale la produzione di pane prodotti da forno per un valore complessivo di circa un milione di euro.